Ciao ragazzi, stasera vi faccio vedere come preparo i club sandwich Cosa sono i club sandwich? Del sandwich Sunny Io faccio la versione fit ovviamente Io userò il pan bauletto Questo qua è quello di camut, anche quello integrale va bene Questo è quello là, biologico E' molto buono E se lo volete utilizzare per fare anche una ricetta dolce Potete fare un altro video che abbiamo fatto qualche giorno fa O qualche settimana fa forse Si chiamava torta gelato fit Comunque andate a vedere il video E ve lo lascio anche nelle schede Così utilizzate questo qua per fare dolce e salato Popi che c'è voi club sandwich? Comunque cosa ci occorre ragazze? Un pan bauletto insomma pane Poi dei pomodori Poi dell'insalata che ho condito già con olio, sale Rosa dell'Himalaya e limone Delle uova sode Su che ho messo un po' di sale e un po' di pepe E poi qua ho guarnito già i piatti Adesso faccio vedere che super preparazione Le olive nere Sottiletta light ci vuole ragazze E un po' di prosciutto cotto offesa di tacchino E andiamo con club sandwich Una cena fredda un po' alternativa Ragazze vado a tostare le fette di pane in padella antiaderente Potreste farlo anche nel tostapane Io non ce l'ho quindi lo faccio sul fuoco Pochissimi minuti Ok ragazze Ecco il nostro pane bello Tostato Bruschettato Adesso lo andiamo a farcire Vai Ora metto le fette di pane così Uno Due Poi ci metto Per prima cosa la sottiletta light Così si scioglie un pochino Ovviamente potete mettere qualsiasi tipo di formaggio volete Io metto questo perché è light Poi ognuno fa quel che gli pare Poi mettiamo il prosciutto cotto Una fetta E una fetta qua Ecco qua A questo punto ci metto L'uovo sodo Ecco qua Adesso ci metto l'insalata Che ho precedentemente condito Così lo andiamo più spugnosi Pomodori Ecco qua Pomodori Poi ci metto infine Invece della maionese Il nostro ketchup light Fatto in casa Andate a vedere il video Su come si fa Sempre sul nostro canale di Youtube Metto un pochino così A questo punto vado a coprire Zack Fatti il panino Zack Zack La decorazione ragazzi Con l'olivo Ecco qua i nostri club sandwich Ragazzi sono una boba Sono buonissimi Provateli perché sono troppo buoni Come sono invitanti Con la sottiletta tutta sciolta All'uovo Sono veramente squisiti Che meraviglia ragazzi Buon appetito Provateli Lasciatemi un like per questo video Taggatemi nelle vostre foto su Instagram Facebook Un po' dappertutto E noi mangiamo anche gli hamburger E' un altro po' di prosciutto Buon appetito Yumi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti